Come vuoi che ti chiamo? Puoi chiamarmi Thomas. Sei italiano? Sì, sono italiano. Perché hai deciso di parlare? Perché spero che con questa testimonianza chi ascolterà potrà non fare i miei stessi errori. E non hai paura? Beh sì, ma ne avevo molto di più prima. Cosa intendi prima di cosa? Prima di prendere coscienza di non essere il solo. Quando hai capito che tutto era sbagliato e dovevi parlare? Quando ho visto e sentito altri che hanno iniziato a parlare. Cosa vuoi ottenere ammettendo i tuoi sbagli? Vorrei che tutti non facessero i miei stessi errori. Sai, errori del genere ti possono cambiare la vita. Che cosa vuoi dirci quindi? Sai, io credo che la testa sia fatta per pensare e la bocca per parlare. E quindi che cosa vorresti dirci? Illuminaci. Che se volete cambiare e volete comunicare qualcosa di importante e cambiare le regole del vostro business dovete necessariamente... Che dovete metterci la faccia ragazzi. La faccia sempre. Stay tuned perché sono sempre online. Ciao da Amos. Che dovete metterci la faccia. Che dovete metterci la faccia. Che dovete metterci la faccia.